3.772 le persone positive al covid-19 in Liguria, 41 in più rispetto a ieri, altri 6 decessi nello Spezzino. In settimana anche in Liguria la distribuzione delle mascherine nelle farmacie, edicole, tabaccaie e grande distribuzione. La Domenica delle Palme ha dato inizio alla Settimana Santa, la riflessione cuaresimale del Vescovo Monsignor Ernesto Parletti. I comuni impegnati in prima linea per l'emergenza coronavirus, le guardie ecologiche a presidio del territorio. Consegnate oggi da Costa Crociere tonnellate di materiale alimentare alla Caritas Diocesana. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione del nostro TLS giornale. Ammontano a 3.772 le persone positive al covid-19 in Liguria, 41 in più rispetto a ieri e sono 595 i deceduti dall'inizio dell'emergenza, 39 in più di ieri. I test effettuati sono 15.533, 486 più di ieri. Sono al domicilio 1.812 persone, 12 più di ieri clinicamente guariti ma restano positivi e sono al domicilio 657 persone, 17 in più di ieri. I guariti con due test consecutivi negativi sono 180, 20 più di ieri. Secondo i dati relativi ai flussi tra l'ISA e il Ministero, dei positivi totali 1.303 sono gli ospedalizzati, 12 in più di ieri, di cui 162 in terapia intensiva, 3 meno di ieri, così suddivisi. Nell'ASL 5, 119 di cui 17 in terapia intensiva e le persone in sorveglianza attiva sono 3.147 e nell'ASL numero 5 sono 420. La direzione sanitaria e la direzione medica del presidio ospedaliero di ASL numero 5 segnalano sei decessi di pazienti Covid-19 positivi. Si tratta di tre uomini di 88, 87, 78 anni, tutti residenti nel Comune della Spezia ricoverati all'ospedale Sant'Andrea. Un uomo di 85 anni ricoverato nell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana e residente nel Comune di Follo. Una donna di 70 anni residente nel Comune di Levanto ricoverata al Sant'Andrea della Spezia e un uomo di 88 anni residente nel Comune di Sarzana, anche lui ricoverato nell'ospedale Sant'Andrea. La CISL Funzione pubblica Liguria tenuto conto di quanto fatto in altre realtà regionali come la Toscana e in considerazione dell'impegno di tutti i lavoratori della sanità del sostenere le azioni straordinarie messe in campo per far fronte all'emergenza coronavirus, chiede alla Regione Liguria un'azione economica che rappresenti il doveroso riconoscimento per quanti hanno in prima persona messo a rischio la propria salute a beneficio della collettività. Chiediamo lo stanziamento da parte di Regione Liguria di una cifra congrua al soddisfacimento della nostra proposta, dichiara la Segreteria CISL FP Liguria, che vada bene oltre le normali indennità aziendali. E ora una notizia molto importante per i pensionati. Poste italiane e l'arma dei carabinieri hanno sottoscritto una convenzione grazie alla quale tutti i cittadini di età pari o superori ai 75 anni, che percepiscono prestazioni previdenziali negli uffici postali e che riscuotono normalmente la pensione in contanti, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio delegando al ritiro i carabinieri. I pensionati potranno contattare il numero verde 800 55 66 70, il numero 800 55 66 70, o chiamare la più vicina stazione dei carabinieri per richiedere maggiori informazioni. 2 milioni di mascherine gratuite per i cittadini Liguri. Regione Liguria ha annunciato il prossimo invio del materiale sanitario. Abbiamo chiesto maggiori informazioni all'assessore alla protezione civile della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone. Vediamo il servizio di Maria Cristina Sabatini. Continua la distribuzione da parte di Regione Liguria delle mascherine gratuite. Ora il prossimo passo sarà quello della distribuzione a tutta la cittadinanza. Ci può raccontare? Beh, direi che è una distribuzione che stiamo preparando e chiedo ancora un pochino di pazienza a tante persone che stanno, come dire, in qualche maniera chiedendo tante informazioni. Si tratta di due milioni di mascherine chirurgiche che noi metteremo in circolazione a partire da questo fine settimana, quindi prima di Pasqua. Le distribuiremo in un milione di pacchetti perché ogni pacchetto avrà due mascherine al proprio interno. L'obiettivo evidentemente è quello di, su vari canali di distribuzione, arrivare il più capillarmente possibile ad aver consegnato almeno una mascherina a tutta la popolazione della Liguria. Quali saranno i canali di distribuzione? Dove si potranno prendere queste mascherine? È tutto ancora in costruzione. Direi che i prossimi giorni saranno determinanti e decisivi per elencare le modalità con cui la popolazione potrà ritirare. Stiamo ragionando ovviamente di vari canali di distribuzione, fra i quali le farmacie, le edicole, i tabaccai. Insomma, al mondo più capillare possibile. Non mi dimentico anche evidentemente i servizi sociali delle varie amministrazioni comunali per raggiungere le persone che sono più lontane, più in difficoltà o che magari evidentemente non riescono a muoversi da casa perché sono impossibilitate a fare. Avete già ideato dei metodi per controllare gli inevitabili furbetti? È chiaro che ci sarà una modalità di autocertificazione in alcuni casi, magari preconchilata per evitare che ci possano essere assembramenti che in questo momento sono evidentemente dannosi nelle varie città o soprattutto nelle zone più popolose delle città, ma è altrettanto vero che se useremo il canale delle farmacie e l'utilizzo del codice fiscale della tessera sanitaria è uno degli elementi che stiamo studiando. Qualcosa che segnali come dire che si è ritirato la propria confezione di mascherina sicuramente verrà messo in campo, ma la cosa più grande che fin d'ora io credo, mi appello, vada messa in campo, fondamentale è il buonsenso. Nel tardo pomeriggio di ieri un giovane di 23 anni della Val di Magra con precedenti per spaccio di stupefacenti è stato fermato dai carabinieri della stazione di Lerici impegnati nei quotidiani servizi disposti per far rispettare le norme governative antidiffusione Covid-19. Il giovane se ne andava a spasso in bicicletta lungo la via provinciale di Romitomagra nonostante la regola imposta di non uscire di casa se non per comprovate necessità. L'uomo è stato trovato in possesso di due grammi di hashish, un grammo di marijuana e il giovane è stato segnalato alla prefettura della Spezia e per lui è scattata anche l'assalatissima multa prevista in caso di violazione del divieto imposto di non uscire di casa. E come abbiamo sentito in settimana saranno distribuite le mascherine anche nella nostra provincia e da oggi inoltre sono attive le guardie ecologiche per pattugliare alcune zone della città. Sentiamo i particolari dal sindaco della Spezia. Facciamo il punto dell'emergenza coronavirus nella nostra città, come sta andando e le iniziative che stiamo facendo. Anche questa mattina la Giunta si è riunita proprio per cercare di monitorare continuamente la situazione. I positivi aumentano ancora, non è passata l'emergenza, la raccomandazione è sempre la solita. Bisogna stare in casa, un sacrificio che facciamo per ognuno di noi, per i nostri amici, i nostri parenti, per chi lavora, per chi ogni giorno ci dà una mano, soprattutto dentro il sistema sanitario e tutti i volontari fuori. Abbiamo, proprio questa è la settimana di Pasqua, quindi abbiamo intensificato il programma dei controlli. Da oggi però stiamo distribuendo anche le mascherine per gli esercizi commerciali, per chi è esposto al pubblico e piano piano questo avverrà anche nei prossimi giorni, per chi ha bisogno può rivolgersi chiaramente anche per motivi di salute alla nostra protezione civile, chi ha bisogno di mascherine, intendo, fatelo, noi finché possiamo aiuteremo tutti senza lasciare indietro nessuno. Abbiamo fatto un accordo con le guardie ecologiche volontarie per rafforzare il sistema di protezione civile in questi giorni di Pasqua, bisogna stare in casa, bisogna aumentare il controllo proprio per evitare il contagio, evitare poi di andare nei nostri ospedali. In più è ancora aperta la possibilità di fare la domanda per il buono spesa che la protezione civile la settimana scorsa ha emanato, abbiamo ricevuto oltre 2000 domande, le stiamo lavorando, ancora chi ha la necessità guardate il bando sul sito del comune e fate la domanda. E il sindaco della Spezia, Pierluigi Perachini, ringrazia la comunità del Bangladesh presente sul nostro territorio per la donazione di materiale sanitario. Il prezioso aiuto e la generosità dimostrata, sottolinea Perachini, testimoniano ancora una volta la salda amicizia che lega la città della Spezia e la comunità del Bangladesh locale. Il comitato Umberto I ringrazia le forze dell'ordine per l'operato svolto in questo periodo di emergenza all'interno del quartiere Spezzino. Gli uomini delle forze di polizia hanno eseguito numerosi e ripetuti interventi per reprimere le irregolarità portate alla loro attenzione e svolgere una continuativa attività di carattere preventivo nel quartiere. Sottolinea il comitato, di questo siamo grati al questore, al comando provinciale dei carabinieri, in particolare al capo del nucleo operativo e al comando dei vigili di via La Marmora. Dopo le 6.000 mascherine arrivate nei giorni scorsi da Gaio, stamani all'aeroporto di Malpensa, Milano, una squadra della protezione civile, ha ritirato il secondo carico di presidi sanitari provenienti dalla Cina per Sarzana. Questa volta sono 10.000 le mascherine inviate alla città di Sarzana, dalla prefettura di Lishui del distretto di Liandu, grazie al corridoio umanitario attivato nelle scorse settimane con il paese asiatico, direttamente dal comune di Sarzana. Il primo lotto di mascherine è già stato distribuito alle attività essenziali rimaste aperte, ora toccherà alle poste ai distributori di carburante, concludendo con la distribuzione a tutta la cittadinanza. E proseguiamo in tema di mascherine. 5.000 mascherine chirurgiche fornite dalla Regione Liguria alla CNA e destinate alle imprese che ne hanno necessità per motivi di lavoro sono attualmente disponibili, lo afferma la coordinatrice provinciale CNA La Spezia Giuliana Vatteroni in una nota. Visto il delicato e difficilissimo momento per tutti, spiega la coordinatrice provinciale CNA, soprattutto per chi come medici infermieri e personale socio-sanitario è costretto a stare in prima linea, abbiamo deciso di centelinare la distribuzione delle mascherine dando la priorità alle imprese che in questo momento permangono in attività e ne hanno dunque un'effettiva necessità. Continuiamo con le mascherine, sono 25.000, le mascherine protettive prenotate da Confindustria verranno distribuite nei prossimi giorni dalla Croce Rossa della Spezia alle aziende associate del territorio. Stamattina gli operatori della Croce Rossa hanno ritirato i dispositivi di protezione alla Fiera di Genova e li hanno trasportati alla Spezia nel magazzino della Croce Rossa. Nei prossimi giorni i volontari si occuperanno di smistare le mascherine chirurgiche FFP2 e FFP3 e consegnarle direttamente alle aziende associate di Confindustria. Nei giorni scorsi un gruppo di sindaci della provincia Spezina hanno chiesto maggiori informazioni da parte della regione Liguria e Alisa circa gli interventi per fronteggiare l'emergenza coronavirus sul territorio. Di questo e della situazione del comune di Rio Maggiore, Jacopo Cidale, ha intervistato la sindaca Fabrizia Pecunia. Sindaco Pecunia, emergenza coronavirus, com'è la situazione a Rio Maggiore? La situazione nel comune di Rio Maggiore al momento è sotto controllo. Fino ad oggi abbiamo registrato solo un caso di positività e una sorveglianza attiva per i quali sono stati attivati tutti i protocolli previsti. Noi abbiamo attivato il servizio per la consegna delle medicine e della spesa a domicilio e la guardia medica che è operativa tutti i giorni. In più abbiamo emesso sabato anche i buoni spesa quindi daremo anche un contributo alle persone che sono in difficoltà. Abbiamo il mese scorso come giunta anche deliberato la possibilità di dare degli anticipi sulla liquidità per coloro che abbiano il conto corrente postale. Purtroppo attualmente l'ufficio postale di Rio Maggiore è chiuso e quindi questa necessità è nata dal fatto proprio per evitare che le persone si spostino su Manarola per andare a ritirare la pensione o semplicemente liquidità dal conto corrente. Con i giorni scorsi come sindaci del centro-sinistra avete fatto la richiesta alle istituzioni di essere maggiormente informati sulla situazione. Nell'ultima conferenza dei sindaci sulla sanità sono emersi alcuni punti critici che vorremmo affrontare e abbiamo portato all'attenzione del servizio sanitario regionale. Abbiamo necessità di essere informati in modo puntuale e anche rapido per poter agire tempestivamente a favore dei nostri concittadini. E poi c'è anche il tema dei protocolli che sono utilizzati. Abbiamo bisogno di un piano di coordinamento sul lungo termine perché questa emergenza cominciata ormai già da diverse settimane dovrà cominciare ad entrare in una fase di gestione. E quindi come sindaci dobbiamo essere coinvolti, dobbiamo condividere un percorso e garantire la salute a tutti i nostri concittadini perché questa rappresenta davvero una priorità. Di questa situazione molto probabilmente ne risentirà anche il turismo. Le attività sono tutte chiuse però purtroppo non si conosce al momento neanche quando e come si potrà ripartire. Quindi auspico un intervento sia a livello nazionale che regionale per far arrivare dei contributi che possano aiutare coloro che oggi sono in grosse difficoltà nella ripresa. Il presidente di Avis Regione Liguria Alessandro Casale in una nota risponde alle domande dei donatori che nei giorni scorsi hanno chiamato le sedi Avis per ricevere maggiore informazione in merito ai test sierologici Covid-19 sui donatori di sangue della Liguria. Purtroppo al momento non abbiamo informazioni complete, avverte Casale. Il progetto è uno studio epidemiologico per la ricerca della presenza di anticorpi specifici legati all'infezione Covid-19. La Regione Liguria ha ritenuto che per questo progetto potessero essere fondamentali test sui donatori di sangue, continua Casale, non perché vi siano correlazioni tra rischio di infezione e Covid-19 e l'attività donazionale, che anzi viene confermata pratica e sicura. I donatori di sangue ben si prestano a indagini di questo tipo poiché sono un campione ben rappresentativo di una popolazione sana. Al momento, puro e valutato positivamente il progetto dal Comitato Etico, i test sui campioni dei donatori di sangue non sono ancora partiti, sottolinea il presidente. È però fondamentale approfondire la questione chiarendo diversi aspetti che ci risultano ancora sconosciuti. Con la Domenica delle Palme è iniziata la Settimana Santa che ci porterà verso la Pasqua. In tutta la Quaresima il nostro Vescovo, un signor Luigi Ernesto Palletti, ci ha accompagnati con una riflessione quotidiana. Sentiamolo anche oggi. Siamo nella grande Settimana Santa. Oggi la liturgia ci propone una grande pagina del Vangelo di Giovanni. Sei giorni prima della Pasqua Gesù andò a Betania. Ecco Betania, la casa dove abitano Lazzaro, Maria, Marta. E lì un gesto tutto significativo. Maria prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparsi i piedi di Gesù, poi gli asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Un gesto d'amore e anche un gesto profetico, che già anticipa la sepoltura, l'unzione della sepoltura e il grande profumo della risurrezione. Però a fronte di questo un commento lontano, contraddittorio, Giuda che dice perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri. Apparentemente sembra una ragione, ma l'Evangelista dice non gli interessava nulla dei poveri. Era ladro, voleva prendere quei soldi posti dentro la cassa. Ecco questi due gesti, che veramente manifestano da una parte una luce, quella di Maria, e una tenebra, quella in cui Giuda si sta immergendo. Sono i gesti delle nostre contraddizioni, quelle contraddizioni che ci provengono dal mondo, quelle contraddizioni che provengono dal cuore dell'uomo, ma sono anche i gesti dei nostri atti di amore, quando questo cuore, come quello di Maria, è aperto all'amore di Dio. E allora compiamo questo passo proprio alla luce di ciò che ha fatto Maria. Anche noi poniamoci in piedi di Gesù, anche noi versiamo lì quel profumo della nostra preghiera, il profumo della nostra carità, il profumo dell'ascolto della sua parola. Compiamo questo gesto e ci troveremo veramente immersi ancora di più nel cammino che ci porta verso il grande mistero pasquale. La tutela del patrimonio agroalimentare nazionale è una svolta storica, dopo che ormai circa tre marchi storici su quattro sono già finiti in mani straniere e vengono spesso sfruttati per vendere prodotti che di italiano non hanno più nulla dall'origine degli ingredienti allo stabilimento di produzione. E quanto afferma col Diretti Liguria nel commentare è positivamente l'annuncio del Ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli di volere stendere anche all'alimentare il golden power anti-shopping straniero, a difesa delle imprese italiane. Si tratta di un'inversione di tendenza dopo che negli ultimi decenni gli stranieri hanno acquisito quote di proprietà nei principali settori dell'agroalimentare italiano, dalla pasta all'olio, dagli spumanti ai gelati, dai salumi fino ai biscotti. Uno shopping senza freni che è stato peraltro accompagnato solo da sporadiche azioni dell'Italia all'estero dove sono stati frapposti ostacoli. Anche in Liguria arriva il progetto ADA Siamo in Ascolto, uno sportello di ascolto telefonico promosso da Will Pensionati Liguria, Will Liguria e ADA l'associazione per i diritti degli anziani. Il servizio è rivolto a tutti coloro che si trovano in quarantena o in isolamento domiciliare a causa del Covid-19 e a chiunque viva una situazione di difficoltà emotiva legata ai cambiamenti della quotidianità. Il servizio è attivo tutti i lunedì e venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30, in martedì e giovedì dalle 17.30 alle 18.30. Tutti i numeri sono consultabili sulla home page del sito internet di Will Liguria e di ADA nazionale. Le segreterie regionali e territoriali dei trasporti Filt CGL Genova e Liguria, Filt CISL Liguria e Ultrasporti Liguria ribadiscono in una nota la necessità di permettere alle navi battenti bandiera italiana di poter attraccare nei porti Liguri. Diverse navi sono attualmente attraccate in porti esteri oppure sono in navigazione e non possono ricevere la necessaria assistenza, sottolineano le segreterie. Le organizzazioni sindacali chiedono alle istituzioni di ricevere le navi costa nei porti della nostra regione. I marittimi non sono italiani di serie B. E oggi pomeriggio sono state consegnate in porto le tonnellate di materiali alimentari alla Caritas della Spezia da Costa Crociere. Vediamo il servizio. Oggi sbarcheremo circa 10 pallet di alimenti che andranno alla Caritas Diocesana della Spezia. Stiamo parlando di oltre 2500 kg di pasta, oltre 1000 lattine di bibide e bevande varie. Quindi penso che in un momento così brutto che sta abbracciando tutto il mondo, un gesto così sia ancora più bello. Mi hanno chiesto, Don, ma quanti pasti avete al giorno? E ho messo un po' insieme le cifre e devo dire la verità che siamo arrivati a 1000 pasti al giorno, che è una cifra, credo che sia veramente impensabile e indicibile. Però devo dire che di fronte a questa richiesta d'aiuto c'è un'offerta d'aiuto, e questo non è un esempio grandioso come si vede, che davvero ci fa sentire alimentati e sospiti ad andare avanti e ad non mancare di fiducia mai, perché davvero anche di fronte ai grandi problemi come quelli attuali, questo tremendo virus, però c'è la generosità, la provvidenza davvero, con la prima iuscola che si sta facendo presente. Quindi siamo immensamente grati perché dalle parole qui oggi si passa ai fatti, ed è quello che a noi serve per poter andare avanti in questa grande opera, dove davvero è necessario essere concreti. Quello che ci è chiesto è proprio di scendere in campo e di farci prossimi, con tutte le prutenze del caso, però di essere veramente pronti in prima linea perché è necessario rispondere e rispondere con generosità. Da qualche giorno fa è stata fatta una congola fornitura di mascherine di materiale medico per l'ospedale della Spezia. Questo grazie ad una sinergia che vede Capitaneria, Sanità Marittima, Ufficio Radogani e soprattutto Costa Crociere, che ha fatto in modo che la Caritas avesse quanto è necessario avere per i più poveri, per i più disagi. Devo ringraziare la città di La Spezia e tutte le autorità che fanno parte del porto, della città, che ci hanno ospitato e ci stanno dando il continuo supporto. Padre e Figlio e Spirito Santo, amico. Date buon vento e buon cammino. Buona navigazione. Se ne è andato all'età di 93 anni Orazio Oppicini, memoria storica della resistenza partigiana in Valdivara e in particolare a Brugnato. Aveva ottenuto nel 2015 la medaglia della liberazione e nel 2019 la benemerenza del Comune. Il Presidente del Comitato Unitario della Resistenza, Paolo Garantini, nell'esprimere cordoglio ha detto «Nel prendere congedo da queste generazioni sentiamo che è anche una parte di noi che se ne sta andando, insieme a tutti quei valori di un mondo antico dove la gente era forse più semplice, ma di certo più autentica e vera. Ora che sei con tutti loro, Orazio riposa in pace e ti sia lieve la terra. Ci mancherai». Un ricordo nel servizio di Laura Ivani. Vorrei che nelle scuole ci faccia solo promotore ai ragazzi di far dare qualche cosa di concreto che ci fuori alla storia della resistenza, perché oggi sono scritte su certi libri. Così, vedi la prima pagina, due o tre pagine è finita la resistenza. La resistenza non sono poche pagine sul libro di storia, lo ripeteva Orazio Oppicini, uno degli ultimi testimoni della guerra partigiana a Brugnato. Se n'è andato sabato notte all'età di 93 anni, socialista, già consigliere comunale e provinciale e della comunità montana, aveva speso la sua vita a testimoniare i valori di un'epoca che adolescente lo aveva visto in prima linea come staffetta insieme a tanti ragazzi di allora. La farmacia della sua famiglia a Brugnato ha avuto un ruolo centrale nella resistenza in Val di Vara, diventandone un quartier generale. Ce lo aveva raccontato cinque anni fa, in occasione del settantesimo anniversario della liberazione. Polonello Bertonelli Giulio, che era una persona che faceva parte del Comitato Nazionale di Liberazione, venne in farmacia e gli disse, caro Angelo, così si chiamava mio padre, questa volta tocco anche a te. Io, quelli che verranno, passeranno di qua e la parola d'ordine, dato che siamo in farmacia, sarà l'aspirino a baglia. Si era battuto perché Brugnato ottenesse anche una medaglia d'oro per il sacrificio compiuto durante la resistenza, riconoscimento arrivato un anno fa alla memoria del comandante Giovanni Pagani, che lui amava ricordare insieme a Ezio Grandis, Vittorio Brosini e agli altri protagonisti di quell'epoca. Appena sedicenne, con un gruppo di giovani del posto, percorreva i sentieri che dalla valle risalgono verso lo Zignago e le montagne, per accompagnare chi si dava alla lotta partigiana o per portare messaggi. La presenza dei giovani alla resistenza di Brugnato è stata numerosa in confronto ad altri paesi, perché siamo arrivati all'ultimo, quando abbiamo centri tra operativi e aiuti, appoggio alla resistenza, siamo a 47-48 persone. Nel 2015 lui stesso aveva ricevuto la medaglia della liberazione dalla provincia e nel 2019 la benemerenza dal comune di Brugnato. Persona accolta, sposato con due figli, aveva viaggiato come informatore farmaceutico, un uomo libero che aveva fatto dell'ideale di libertà e di democrazia il centro della sua esistenza. Come per sua volontà, dopo la cremazione, sarà sepolto nel cimitero brugnatese, all'interno del tumulo del padre, dove si legge DIA A LUI LA PACE DEL GIUSTO Dal 2017, con specifico provvedimento legislativo, la Repubblica italiana riconosce il giorno 11 aprile di ogni anno quale giornata del mare presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado al fine di sviluppare la cultura del mare, inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico. Quest'anno la giornata è anticipata domani, 7 aprile. Attraverso il nostro canale televisivo 171 Luna TV, la scuola non si ferma, gli studenti potranno seguire alcuni speciali sul tema a partire dalle ore 9. Dopo un breve saluto da parte dei docenti, la programmazione prevede la trasmissione di filmati adatti a ogni ordine di scuola. I primi più adatti alla scuola dell'infanzia e primaria, poi per le elementari, primaria di primo grado e infine per le scuole superiori. La programmazione si avvalsa della collaborazione tra gli altri del distretto delle tecnologie marine e della Guardia Costiera, documenti interessanti anche per i nostri studenti. Come ogni giorno, le trasmissioni saranno replicate nel pomeriggio, sempre su Luna TV. Dal giorno 8, rispettando il calendario scolastico, le lezioni si interromperanno per il periodo pasquale per riprendere con regolarità dal 15 aprile prossimo. E ora ascoltiamo un estratto della conferenza stampa del Presidente della Regione Liguria, Giovanni Totti, per il punto della situazione sul coronavirus. Si apre una settimana complessa, soprattutto per il territorio ligure. La gente deve sapere che restano in vigore per tutta questa settimana e parte della prossima settimana le normative vigenti circa gli spostamenti. È fatto assoluto divieto abbandonare il proprio domicilio principale o residenza per recarsi nelle seconde o terze abitazioni. Pertanto ogni tentativo in tal senso, ove mai fosse venuto in mente a qualche sconsiderato, è da considerare totalmente illegale. Non ci si può muovere dal proprio domicilio, che sia lombardo, che sia piemontese, che sia genovese, se abbiano seconde case da qualche altra parte all'interno della Liguria. Quelle seconde case debbono rimanere chiuse. Non ci si può muovere dal proprio comune, non ci si può muovere dalla propria casa. Quindi nessuno pensi da Genova di trasferirsi nella sua casa al mare di Arenzano, piuttosto che di Bogliasco o di Santa Margherita, così come nessuno dalle altre regioni immagini di aprire questo fine settimana pasquale la sua seconda casa in riviera. Ci sarà modo e tempo per gustarsi le nostre bellissime riviere. Questo fine settimana rigorosamente si deve stare a casa, così come non ci si può spostare per, ancorché all'interno del nucleo familiare ristretto, pranzi di famiglia, colazioni di famiglia, cene di famiglia, picnic sui balconi di famiglia di Pasquetta. Ogni nucleo familiare deve stare al proprio domicilio, ancora più nei giorni di Pasqua e Pasquetta, quando non c'è alcuna motivazione plausibile per uscire a fare spese o altri acquisti, se non necessità sanitarie. Sugli spostamenti domani pomeriggio ci sarà una riunione che faremo con tutti i comuni, con i prefetti della Liguria, per stabilire tutte le modalità di controllo più rigorose. In questo fine settimana mi auguro davvero, mi auguro della collaborazione di tutti i cittadini, Liguri e non Liguri, perché dipendono i dati in lieve miglioramento e anche la capacità di cura dei nostri ospedali dipendono evidentemente dalla vostra capacità di rispettare le regole. In un momento così particolare le forze dell'ordine sono impegnate in prima linea a svolgere il loro dovere a difesa dei cittadini. La Polizia di Stato con un video ha voluto dare testimonianza del proprio impegno. Vediamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte in località Pianazze per un incendio. Per causa in corso di accertamento le fiamme hanno interessato un traliccio metallico per le telecomunicazioni, un'imbarcazione allocata in un rimessaggio adiacente. I vigili del fuoco sono intervenuti con una APS, un ABP per garantire idoneità riserva idrica e un'autoscala con nove unità operative. L'opera di vigili del fuoco è valsa all'estinzione dell'incendio, la salvaguardia e protezione delle altre imbarcazioni. Non si segnalano feriti sul posto anche personale della Polizia di Stato. In conclusione del nostro telegiornale le previsioni meteo a cura di Limet, il centro meteo della Liguria. Per questa edizione è comunque tutto. Grazie della cortesa attenzione, a tutti auguro una buona serata e restiamo a casa. Arrivederci. Buonasera a tutti voi da parte di Limet. Robusto campo di alta pressione, ben saldo sull'Europa centro-orientale, a garanzia di tempo stabile e asciutto. Le previsioni per martedì 7 aprile. Giornata praticamente identica a quella di oggi, con cielo terzo in prevalenza sereno e tempo soleggiato che proseguirà in giornata asciutto su tutti i settori, con visibilità generalmente ottima. La ventilazione ancora settentrionale al primo mattino con intensità moderata attesa, specialmente intorno all'area di Capomele. In giornata potranno invece imporsi le brezze di mare, specialmente sulla riviera di Levante. Il mare quindi mosso, molto mosso temporaneamente, il settore ovest allargo durante la notte del primo mattino, ma poi successivamente molto ondoso e rapida diminuzione nella seconda parte della giornata. Tra poco mosso e mosso altrove. Le temperature previste, il lieve ulteriore aumento, le massime sui rilievi appellinici, ampia escursione termica, specialmente nelle valli interne. I valori del primo mattino sulla linea di costa usciranno fra 9 e 13 gradi, le massime fra 20 e 23 gradi, nell'interno a fondo valle minime fino a meno 1 e più 9 sui rilievi appellinici, le massime tra 17 e ben 24 gradi. Per questa edizione è tutto, maggiori info, meteo, come sempre disponibili sul portale centrometeoligure.com e vi ricordiamo di scaricare e consultare la nostra applicazione gratuita Limet.